C'era quello di letteratura italiana, che poi non si capiva assolutamente una cosa, quello che recitava, quello che spiegava Lopardi, una velocità che poi mi ha ispirato in qualche modo anche l'immigrante in bianco-rossi per doni. C'era uno che recitava la poesia, non so, Silvio Lopardi, l'ho fatto anche in uno sketch, attaccava in una maniera assurda, Silvio Lopardi era un bollettino, ma 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 era un bollettino. Il bianco-rossi per doni, ma era un bollettino, ma era un bollettino, però correva su, sempre con noi, e poi, doveva andare per i figli, i figli, i figli, i figli, i figli... che è stato americati, al vento il tuo caso. Cioè, aveva... Pazzo!